Bentornati su MyFootballGersey. Cosa ne pensate? Fantastica! Questa secondo me è stupenda, una delle maglie più belle di questa stagione. Questa è la seconda maglia del Leeds United per la stagione in corso, in edizione FAN! Alla prossima! Questa maglia è veramente stupenda, con questo motivo che mi ricorda la coda di un pavone bellissima, mai visto prima. Il costo lo vedete qui sopra, incredibile, decidete voi cosa fare. Trovate per ordinare la maglia tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi ancora più conveniente. Ora vi lascio la parte finale. Prima però iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla farlo, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. FAN! Ciao! Ciao!